Ti devi innamorare, ti devi, ecco io dico sempre, ti devi ammalare. Perché è una malattia. Per me è nata una passione, quindi ho avuto l'esigenza in questa passione che poi è nata con la tecnica. Io facevo fotografia, quindi da quel punto di vista ho detto a che mi serve. L'originalità non è data dal mezzo o dall'immagine in sé, perché ormai siamo nel mondo delle immagini, ma da un'idea. Se uno ha qualcosa da raccontare, la voglia e l'esigenza del mezzo, in questo caso non della penna, ma dell'immagine, c'hai tutto quello che ti consente di realizzare un'immagine e quindi a quel punto di scrivere una storia per immagini.